Con questo tutorial andiamo a studiare come determinare il vertice, il fuoco, la direttrice e l'asse di simmetria di una parabola con asse parallelo all'asse delle y. Qui ho riscritto le formule che dovremo applicare. Abbiamo l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse delle y, questa è l'equazione dell'asse, questa è la formula per determinare il vertice, il fuoco e poi l'equazione della direttrice. Applichiamo queste formule a questo esercizio. La prima cosa che vado a determinare è il valore di a, di b e di c di questa parabola. Il coefficiente di x quadro è pari a 1 e allora a vale 1. Qui il termine in x non c'è e allora b vale 0 ed infine c è pari a meno 1. Osservo che nelle formule dovrò utilizzare anche delta, ossia b è la seconda meno 4c e allora lo vado direttamente a calcolare ed ottengo che delta è pari a 4. Ora abbiamo tutti gli elementi per andare a calcolare gli elementi caratteristici della parabola. Partiamo dal vertice, allora devo andare a scrivere meno b su 2a meno delta su 4a. Sostituendo in questa formula a, b e c è il valore di delta, ottengo che il vertice ha coordinate 0, 1. Adesso andiamo a determinare le coordinate del fuoco. Osservo che la x del fuoco è pari alla x del vertice e quindi scrivo direttamente 0. Poi devo applicare questa formula 1 meno delta fratto 4a e allora vado a scrivere 1, delta è 4 e allora scrivo meno 4 poi fratto 4a, quindi 4 per il valore di a che è 1. A conti fatti ottengo che il fuoco ha coordinate 0 meno 3 quarti. Ora vado a determinare l'equazione dell'asse, cioè questo x uguale a meno b su 2a, ma osservo che meno b su 2a è proprio la x del vertice e allora posso scrivere che l'asse ha equazione x uguale a 0. Infine vado a determinare l'equazione della direttrice, cioè devo applicare questa formula. E allora vado a scrivere meno 1 più delta, quindi 1 più delta che è 4 e quindi qui ho scritto 4 fratto 4a, quindi 4 per 1, perché a vale 1. A conti fatti ottengo che l'equazione della direttrice è y uguale a meno 5 quarti. Vediamo quest'altro esempio. Lo scopo è determinare sempre vertice fuoco direttrice, assi di simmetria ed equazione della direttrice della parabola. La prima cosa che vado a fare è determinare i valori di a, b e c della parabola e poi vado a scrivere anche il delta che utilizzerò nelle varie formule. Ed ottengo a uguale a meno 1, b uguale a meno 3, qui il termine noto non c'è e quindi scrivo che c è uguale a 0. Poi il delta lo vado a calcolare utilizzando b alla seconda meno 4ac ed ottengo 9. Ora vado a determinare le coordinate del vertice applicando questa formula ed ottengo che il vertice ha coordinate meno 3 mezzi, 9 quarti. Ora, usando questa formula, determino le coordinate del fuoco. Osservo che la x del fuoco è uguale alla x del vertice, quindi questo meno 3 mezzi lo vado a ricopiare così com'è direttamente alla x del fuoco. E adesso vado a scrivere 1 meno delta fratto 4a ed ottengo che il fuoco ha coordinate meno 3 mezzi, 2. Ora vado a determinare l'equazione dell'asse, cioè la retta che passa per il vertice e per il fuoco. Applico questa formula ed osservo che meno b su 2a è pari proprio alla x del vertice e allora vuol dire che in questo caso l'asse è pari a x uguale a meno 3 mezzi. Infine determiniamo l'equazione della direttrice utilizzando questa formula ed ottengo che la direttrice ha equazione y uguale a 5 mezzi. Vediamo quest'altro esempio, procederò come ho fatto nei casi precedenti, devo stare attento però perché qui ho numeri fratti. Allora vado a scrivere a, b e c è il valore di delta. Ottengo questi valori per a, b e c e delta è pari a meno un mezzo. Ora vado a determinare le coordinate del vertice. La x del vertice, visto che qui al numeratore è 0, ottengo proprio 0. Poi per quanto riguarda la y del vertice osservo che ho meno un mezzo al numeratore e meno un mezzo al denominatore che posso andare a semplificare e quello che mi rimane è meno un quarto. Allora 0 meno un quarto sono le coordinate del vertice. Adesso andiamo a determinare le coordinate del fuoco. La x del fuoco è pari alla x del vertice e allora scrivo direttamente 0 e poi applico questa formula per determinare la y del fuoco ed ottengo 0 meno 3 quarti. Devo stare attento a questo passaggio perché sicuramente non devo perdere questo segno meno che ho ricopiato. e poi per ottenere qui 4 ho fatto 3 mezzi diviso 2 che vuol dire scrivere 3 mezzi per un mezzo e quindi vado a scrivere complessivamente meno 3 quarti. Adesso per determinare l'equazione dell'asse è molto semplice. Vado a prendere la x del vertice e allora vado a scrivere che l'equazione dell'asse è x uguale a 0. Infine vado a scrivere l'equazione della direttrice ed ottengo y uguale a un quarto. Devo stare attento a questo passaggio. Meno e meno fa più e poi ho un mezzo diviso 2. Ma scrivere un mezzo diviso 2 vuol dire scrivere un mezzo per un mezzo. Ecco perché qui ho scritto un quarto. Vediamo ora un modo per andare a verificare i nostri calcoli. È possibile utilizzare Wolfram α per eseguire il controllo quando dobbiamo andare a determinare vertice, fuoco, direttrice e così via della parabola. Prendiamo ad esempio l'equazione della parabola y uguale x alla seconda meno 4x più 4. Andando su Wolfram, scrivendo parabola e ricopiando l'equazione y uguale x alla seconda meno 4x più 4, ottengo questo output. Osservo che in questo riquadro ho le informazioni che mi servono. Ho le coordinate del fuoco, del vertice, da cui posso dedurre l'equazione dell'asse di simmetria ed infine l'equazione della direttrice. E con questo termino il tutorial su come poter andare a determinare gli elementi caratteristici di una parabola con asse parallelo all'asse delle y. Grazie. Grazie.